Gli ultimi metri per Margherita Pansiera che difende il titolo europeo ed è nettamente in testa, non la prendono più, non potranno sicuramente raggiungerla nella corsia centrale, la 4 riservata alla super favorita che ha fatto il miglior tempo di qualificazione tra i due cordoli gialli. Il pubblico applaude perché Margherita Pansiera sta per toccare ed è la terza medaglia d'oro per l'Italia perché a quella di Razzetti ieri si è giunta poco fa quella di Minisini nello stadio qui accanto il Pietrangeli dove nel nuoto artistico l'Italia ha conquistato anche i due urgenti con la squadra negli highlights e con Linda Ceruti. Adesso è la trionfo di Margherita Pansiera nei 200 d'orso e ha calato il tris nel giorno del suo compleanno, 27 anni oggi per lei dopo i successi di Glasgow e di Budapest, questo a Roma quindi in casa in Italia per la nuotatrice veneta con l'assistenza tecnica di Jacopo Teodoro, la linea da fuori talico, può tornare allo studio.